Musica Ciao ragazzi, oggi continuiamo con i nostri video di Minecraft e siamo nella nostra serie in FTV con la nostra Tartor che è Stashkavel, brava brava guardate un po' un piccola, tranquilla e abbiamo spostato tutto ciò ah, l'avevo fatto vedere se non sbaglio qui si, nel video di prima guardiamolo qua non so se si può passare se poi c'errebbe la cesta in questo modo e uno spazio ci vogliono delle torte non c'è però una eh, per quella cosa dei watermill non lo so bene quindi lo lascio così non ho ancora ben capito come si usano da un piccola ed è quasi finito quanti ne ho ancora? ah non ce lo fa vedere allora ah si così eh, F3 eh eh ah no non ce lo fa vedere vabbè comunque è quasi finito ah ecco ho iniziato questo altro pezzo brava la mia cartolina e ci vorrà un bel quindi possiamo iniziare a fare cosa non lo so possiamo iniziare a esplorare no intanto è quasi notte ma ci ritorniamo a casa e e e facciamo altri solar panel tanto la sto scavando ancora e si facciamo altri solar panel ho riempito d'acqua comunque quindi dormiamo se ci fa dormire ok poi sarà per provarlo perché ho fatto un'altra cosa in fondo in fondo in fondo che poi ho ritappato per provare la cosa ah finito lo stacca per provarlo per provarlo per vedere se funzionava e funzionava qua cosa abbiamo messo a cuocere niente quindi poi facciamo finire la bobsit e per gli overclock per upgrade per upgrade elium con la cell elon cell no che cosa si può fare con la mac con la cell con la mac con la cell ok quindi bello no questo è sodium sodium e potassio che cos'è per favore per favore allora poi 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 il winning wealth what a bo non mi importa drill fine valido sempre qua nella paint bending machine questo da noi queste cose o no il leon casing quindi niente ci arrangiamo così e possiamo restare a fare un compressore tanto perché tanto ci servirà come re solo machine block ok quindi mettiamo a cuocere questi 6 di stone anzi 5 vabbè anche questo ci servirà più avanti poi dell'iron ci serve dell'iron questo magari ci fa l'iron siamo contenti no? perché con questo questa roba forse di fare questa box it basta no ce ne avevo già fatta tantissima guardate un po' non ci serviva la cosa lasciamo il il l'acciarino per dovermi un po' questa fire charge da come fuoco eterno cosa? oh che fine ha fatto? cosa è successo? oh è la mia fire charge cosa le è successo? cosa le è successo? cosa le è successo? ma davvero cosa è successo? vabbè è persa la fire charge quindi quindi sto qua è finito? si se posso andare bene se facciamo così nel il sul porta no non serve a niente no sto demolendo la mia casa uff sto griffando la mia casa e non per l'acqua è finita passata non non la mia casa è finita ma ecco il motto del mio macinatore è chi va piano va salva lontano ma perdo un sacco di tempo adesso inizio a fare un bel però non ho gomma per fare un bel elettro di circuito no, allora coper aspettate, prima però voglio controllare la mia ok ecco qua, ciao vedete, c'è l'altro coper cosa le è successo? perché? non ho mai buttato tutto fuori dobbiamo mettere una cesta, magari magari non funziona per questo, non so potremmo che essere potremmo che essere allora, c'è se ho tanto stai scherzendo stai scherzendo stai scherzendo oh riscotti ah, andiamo eh sì, fa male togli tipo mezzo no, penso che si fosse togli tipo mezzo quarto vediamo che questo coppa non abbiamo un piccolo quindi non prendiamo voglio farmi il mining drill su via quindi mettiamo a pochettro questo questa rubber pochettro 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 poi carissimo pochettro pochettro stu dai ok ecco qua arrivano la stolla ok mettiamo questo va bene quindi qua l'iron guaccio mettiamo il tracopper così e così massimo su l'elettronic circuit allora facciamo il machine block ok poi l'elettronic circuit così refined iron e il copper cable ok questo non serve vabbè queste cose le lasciamo qua un altro iron ecco con la rubber e poi prendiamo il copper e andiamo nella nostra crafting table normale e poi facciamo l'elettrono dove sono il circuito e poi questo cos... boh ok così machine block e sto ecco con il compressor e mi sa che è proprio quello più diciamo inutile tra questi macchinari questo cos'è ancora box it ma c'erano i del copper anzi il silver mettiamo il copper e la box it poi iron e qua c'era e ambra quanta cosa si può fare con l'ambra cosa si può fare con l'ambra oltre al blocco che bellino amber bricks ah no dobbiamo mettere la U 2 no 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 no, la risita 2 aspettiamo 1 amber block smettaca 15 slot devo fare questa cosa qua previola non lo voglio no, no, no no qua si scarica l'nf vabbè tanto è bella carica però noi abbiamo l'obiettivo di scaricarla del tutto quindi dormiamo e dovevamo fare del solar panel però non lo vogliamo quindi controlliamo la tartal perché non so se mai questo non so che non riusciamo a organizzarla bene è andato nella testa non sbaglio quella che scava vediamo non ci sono blocchi eh caspita perché scappi con non li dividi con 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 orario si è andata a svuotare vediamo eh c'è ragazzi c'è 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 ragazzi c'è la fetta si ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta però non va diciamo che non va bene perché qua devo mettere allora una cesta di ferro ma come la distruggiamo oh io 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 lo faccio di diamante no non posso farlo di diamante e qua lo faccio di cose di iron anche se diciamo che lo spreco quindi iron è finito no? si come sapete ok non c'è di niente quindi così così ecco qua le piccole rosse quindi dobbiamo svuotarci elementari o prima di tutto allora pazioso diciamo ma troppo questo qua ok una volta di questo qua no è spaventato ok che mi stia sfruttando una cosa tirando il mouse e poi qui quindi il frugamma tra gli oggetti un amber e da l'altra parte facciamo queste cose qua eh sì le facciamo tanto 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 fa più e basta quindi ok ok tu puci e tu puci e anche tu poi tu vai qua e tu vai qua ok no non voglio queste cose voglio per gli ordini ok qua il bollo che mi sa poi 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 andiamo a vedere se c'è roba ah ecco dovevo sistemare la roba della Tato per il cesto di ferro guardate già quanto è sceso piano piano ma scende non si sa mai mettiamo anche una cassa no perché non si collegano un tubo, magari funziona con un tubo magari li trasporta non li proviamo, non so se mai perché comunque è meglio c'è il cover non abbiamo gli engine quindi scriviamo così così usci ci facciamo anche un tritap anche se mi ricordavo di averla io lasciamo aia scendiamo giù anche se scendiamo su no vabbè scendiamo quindi legno dobbiamo tutto legno mettiamola qua mettiamola qua mettiamola nel nostro cuore questo è un bel video poi la lava poi questo così rita mettiamo il cover qua mettiamola qua mettiamola qua a macerere e 59 Il Copper facciamo così di stack stick stic di copper caspiterina quindi prendiamo un po' di 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 quelle specie di rubber si vede la rubber snara quella dell'albero nero adesso inizio poi li dovremmo togliere le foglie chi è chi è un creeper un creeper un creeper aiuto mi quello mi uccide vola vola vabbè non mi uccide però quasi del tutto quindi dobbiamo prendere gli engine se no siamo venuti qua per niente pezzo engine control 1 ok poi aspettiamo che finisca di cuocere la tin così anche la sticky resin la cuocere qui su è finito anche l'estrattore ah non era tin era silver fashion no le patate che sono lo stock quindi ce ne torniamo di là ci è finito di lagare oh 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 non ci capisce più niente ecco qua per fortuna ho trovato del carbone perché lei è molto costosa diciamo quanto riguarda il carbone tra poco sarà il piano quindi qua giù dobbiamo mettere una torcia e poi un tubo even transport vabbè anche se ne lo trasportano adesso chissene chissene intanto osserviamo la vita degli animali della nostra tarpa quindi questo qua ce lo dobbiamo prendere visto che lei perché ho la lei non la raccoglie poi cobblestone visto che noi siamo precisi proprio chiudiamo guarda vabbè non ci deve se ne si sta scaricando il jetpack è vero che ce lo da molto il jetpack quindi ragazzi mi sa che per ora è tutto guardate un po' era quasi scarico e cos'è ma da 9 di tipo armor per ora è tutto ci vediamo nel prossimo episodio arrivederci ciao 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 Grazie.